Ciao e bentornati su MyFootballGersey. Oggi vi voglio mostrare una maglia di un campionato inglese, l'avrete già riconosciuta, la prima maglia del Manchester United per la stagione 22-23, in versione player, la maglia di Cristiano Ronaldo. Il kit casalingo Adidas Manchester United 2022-23 combina un colore principale rosso piuttosto scuro con un logo Adidas bianco e le 3 stripes Adidas nere. Ciò che rende speciale il kit è il colletto Polo. Il colletto bianco ha un design triangolare ispirato al 1994. La divisa casalinga presenta uno scudo su cui è posizionato il loco del Manchester United. Lo scudo ha una forma pentagonale con un tono di rosso leggermente più scuro rispetto al resto della maglia ed è delineato da un bordo sottile per separarne la forma. L'ultima volta che lo stema del Manchester United ha avuto uno scudo intorno è stato nel 2019, ma questa volta la forma e il colore sono diversi. Questa maglia ha sicuramente un suo fascino, peraltro è una delle squadre se non la squadra con più tifosi al mondo ed è sempre comunque come vi dicevo la maglia di Cristiano Ronaldo. Nella mia personalissima classifica questa prende quattro stelle. Adoro i colori, mi piace tantissimo la trama di questa versione player e mi piacciono tantissimo le finiture. Qui in alto vedete il prezzo che per una maglia in versione player è veramente bassissimo, strepitoso e vi ricordo peraltro che in descrizione potete trovare anche un link per ottenere un coupon da 3 dollari che potete poi utilizzare sul sito. I tempi di spedizione sono stati ottimi, la qualità è eccezionale, a questo punto non vi rimane che mettere alla prova il sito. Ora vi lascio alla parte finale in cui vedrete la vestibilità e le misure. Spero possiate regalarci un like e iscrivervi al canale per sostenerci e per farci crescere. Ci vediamo prossimamente! Io sono alto 1,75 m e peso 70 kg circa. Quella che vedete è una taglia large della versione player.